Luciano Mondini, candidato sindaco a Santo Stefano per Salute e Ambiente, innanzitutto come è mai la scelta di scendere in campo? La scelta di scendere in campo è perché siamo una lista civica e come tale siamo totalmente apolitici e apartitici. Scendiamo in campo per tutti gli elettori, dall'estrema sinistra all'estrema destra, perché noi vogliamo far valere la nostra posizione in merito all'ambiente e alla salute. Garantire la salute dei cittadini di Santo Stefano attraverso l'abbattimento drastico dell'inquinamento ambientale. Ecco, tra i temi contenuti nel vostro programma c'è il biodigestore. Sì, è il nostro cavallo di battaglia o argomento principale. Il biodigestore andrebbe a danneggiare irreparabilmente a livello di inquinamento l'ambiente relativo a Santo Stefano Magra e soprattutto provocherebbe un danno economico enorme a tutte le attività commerciali. per non solo gli inquinanti che emette a livello gassoso e la possibilità concreta che si vadano ad inquinare le falde e quindi avere acqua non potabile per 150.000 abitanti della provincia di La Spezia, ma anche perché a livello odorifero, odorigeno, si rischia davvero di andare a interessare la zona nevralgica della cittadina e quindi una perdita enorme sicuramente per il mercato immobiliare, ma soprattutto per il turismo, per l'economia e per i cittadini di Santo Stefano Magra. Per quanto riguarda l'area retroportuale, qual è la vostra posizione? La mia posizione in particolare, che coincide con quella della mia lista, è che chi procura un danno a livello ambientale, chi inquina deve rinfondere, deve pagare e secondo me occupare del suolo comunale con i container corrisponde comunque a un danno ambientale che in qualche modo deve essere ripagato ai cittadini di Santo Stefano Magra. Ecco, un altro tema che volete affrontare è quello relativo al PNRR. Sì, vogliamo allinearci all'Europa e al PNRR, perché sappiamo, intervista recente di Gentiloni, che i fondi europei arriveranno solo se verranno raggiunti gli obiettivi e tutti i nostri obiettivi di programma sono in linea col PNRR, innovazione, tecnologia, digitale e quindi di conseguenza salute e ambiente.